Un giorno vorrei iniziare il video in maniera differente Potrei utilizzare quello di ieri perché non cambia molto Oggi sapevo già che sarebbe stata una giornata resante Perché ieri sono stato costretto, dietro per il riposamento A montare una telecamera anteriore e una posteriore nell'abitacolo dell'auto di mio zio giapponese Let's go! È stata comunque una giornata tranquilla Abbiamo pranzato con deliziosi invottini cinesi ripieni di carne tritata di maiale I cosiddetti ghiosa E poi altra roba giapponese Ho sistemato istantaneamente il letto con un taglio professionale E ci siamo dirette da un ingrosso alla faccia del coronavirus Che tanto tutti sanno che è colpa del 5G I motivi per la quale comunque siamo usciti mi sembrano abbastanza ovvi Piacere personale, mancanza di rispetto, tutta l'assenza di senso civico e disinteresse verso la comunità In realtà oltre alla classica spesa avevo bisogno di cose per i prossimi video che parleranno di Ieri oltretutto ho dimenticato di fare le fessioni per la penitenza autoimpostami E quindi ho deciso di sommare i minuti di ieri e di oggi e di fare un'unica grande punizione La corsa I prossimi video che parleranno di bla 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 bla